Bella ragazzi carico non mai da Fuse Gamer Oggi ragazzi siamo qui con Napoli Empoli Oggi grande occasione OIU Perché abbiamo la possibilità di scavalcare il Milan Passa la volta Diciamo che oggi dovrebbe, dovrebbe Sulla carta sappiamo Che questo è Napoli insomma Però chi lo sa Ragazzi per andare persi bisogna fare il RITO Grande bagno di pioggia Ragazzi chi è stato il terzo a toccare il pallone Chi indovina? Avrà come al solito qui sotto nei commenti Tre cuoricini sempre più azzurri Come benissimo La grande formazione Andiamo a vedere Andiamo a vedere Siamo pronti? Genialato Siamo pronti GONZINI Dio Renzo Ragmani Ossiga Olivera GONZINI INIESTRA GONZINI ERTA MESI Simeone Rastadori Kvara out Merezzi si è fatto male Fischi Fischi per García Napoli Vaiù Prima della sosta Non abbiamo mai avuto buone notizie A livello dei risultati Oggi Siamo a distruttare Ale 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 Vai ragazzi Eccolo 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 Vira Periscia Contro di noi Stiamo da mattina Ma chi ha fatto un po' Ma non è un po' Due a consecutivo Ma io Questa è ancora peggio di quella di Pina Ma io Ma io No Ma che noia Ossica 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 Si è fatto proprio affoggiare Ci hanno graziato E' fatto una granazione Occasionissima dell'embo Occasionissima Ma che è invocata Buon gioco Buon gioco Ma non è già ci fare l'ora Noi Sì Sì No È salito Buon gioco Buon gioco Aveva anche il solito marcaturo Grande parata di Collini Ancora, ancora Sì, sì, Empoli per i colori Dopo quelle parate di Beriscia, Empoli molto più pericolose dell'altro Questi sono più forti dell'Union Berlina, tra le altre cose No, 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 no Perché non è che stiamo perdendo e stiamo giocando senza volta Però stiamo giocando malissimo Sì, Empoli ha avuto più occasioni Tranne quelle parate di Beriscia, ma proprio come fruttità di gioco Siamo sempre là, Vaiù Cambiamo gli uomini mogli, ma i problemi restano Il problema è il diffunto Vedi, altrimenti è sempre Vaiù, grande picnic Abbiamo cioccolatini direttamente dalla Svizzera Grazie mille, forza Napoli Abbiamo qui Oreo e salamini Piccanti Così, dopo, magari Ma sarà piccante questo secondo te Sempre, comunque, forza Napoli Dai ragazzi Dai forza Un istro Dove? Dove ho già Ma no! Adolto il signore Ma perché il raspadone? Ma mette tutti gli arraspatori La ronda, una tima, una punta Lasciamolo Ma mette adolto il signore Ti vuoi sconfessare Ti vuoi sconfessare Parti così e finisci più difensivo Dai, però Wow Potete togliere il raspadone Ah, però Se è più offensivo così Ma fai una partita a sto Simeone Poi, intero Questa la notte Lo continueremo Quello? Lo continueremo forse Ti prego, Lindstrom Tiriamo Che l'hai Lindstrom? Nooo Nooo No, ma aiuta Abbiamo in posta di Lindstrom Ma non stava per succedere Mamma mia Guardate ad una scossa Vai Dai, la potete vi dar Dai, la potete Guarda Guarda Ti prego, guarda Nooo Ma mette di scomparire Lo segniamo Dai, dai, dai Cinque Nooo Mamma mia Per il segumentato Funtuale Fuori Prego La può segnare, però Non segniamo Non segniamo Non segniamo Non segniamo Non segniamo Ticare l'ora Bu Bu Poi Voglio l'esodero Voglio l'esodero Gazzia Mi venderà del cibo Gazzia Vai a casa se ne devi andare, se ne devi andare, se ne devi andare, se ne devi andare, se ne ho io, se ne ho io, se ne ho io, sono entrati con il spallone nella porta, l'Empoli è venuto diventare a, facciamo ridere, facciamo ridere, Garsia è a casa. E non caccio stasera, è meglio chi ho stato, lo giuro. Presidente caccio, non ha perduto i pochi, solo tu non l'hai capito, lo devi cacciare, basta, basta, e non posso come io ho stato, io ho nipote, e non posso, basta, e non posso, senza palle, senza gioco, non abbiamo niente, solo questo scudetto sul petto, che stiamo disonorando. Io comunque per tutta la partita ho avuto l'impressione che volevamo perderla, tutta la partita, passaggi sbagliati, senza voglia, non correte in mente al campo, e non è la prima partita che giochiamo così, non è la prima, stiamo giocando contro la penultima in classifica, ora sono adai, avete rotto, basta, ci hai rovinato, ci hai rovinato una squadra, ci hai rovinato una squadra, ci hai rovinato una squadra, hai rovinato tutto, hai rovinato. Ma dove l'abbiamo preso ragazzi, tutta Napoli si è chiesto, ma questo dove l'abbiamo preso, cacciato dalla rabbia, avevamo una squadra spettacolare, 16 punti alla seconda, 20 alla terza, incredibile ragazzi. E non le esonerano oggi, non le esonerano più. A panchina invertita avremmo vinto 4 a 0, con Andrea Azzoli, un allenatore normale, bravo ma normale, basta, basta, game over Garzia, game over, è finita. 3 milioni di ricordo, ma cosa cazzo fa, a chi le dà indicazioni? A chi le dà indicazioni? Che le dà l'andone più schiudoloso degli ultimi vent'anni, vergognati. Mettate le indicazioni, ma, ma, tutta la partita si state zitta a scrivere un gruppo foglio, che ci faccio in me scriva? Caga, durante la settimana non fai niente, non fai niente, non sai fare fatica tu, non sai fare. Fisca, fisca, sì, va bene, va bene così. Gatti a casa, gatti a casa. Buuuu, 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 merda, devi andare, devi andare, eh sì, non devi venire più, non devi allenare più. Complimenti all'Empoli, signora partita. Con un signor gioco, con giocatori modesti. Degliatevi, incredibile, incredibile, ragazzi. Deve venire qua sotto e deve chiedere scusa a sto merda. Dovrebbe venire, dovrebbe farsi il giro di campo a chiedere scusa per quello che sta facendo. Deve dare le dimissioni, non lo vediamo, ma anche sulle varie. Ma non è che la dimissione è questa, ah, le pia tre milioni, lo devi cacciare e basta. Dove sta? Si mette vergogna. Guarda, vedi i miei fischi ai giocatori, ai campioni d'Italia, i fischi sono solo tuoi. No, non sono per i tuoi. Non sono per i tuoi. Sono solo tuoi, vergognati. Non sono per i giocatori questi. Sei finito, sei finito. E questi giocatori ci hanno fatto venire la pelle d'oca. Quando ho vinto uno scudetto loro, non tu. Ale, 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 Napoli, ale. Ale, 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 Napoli, ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 Napoli, ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Ci mette paura e qua, è asciugio lì, se sta l'olto. Ci mette paura e se sta l'olto. Buuuu! 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 Ce ne ha io! Ce ne ha io! Ce ne ha io! Basta, voglio basta. Dovete cacciare, non ce la facciamo più, voglio. Ve lo chiediamo per favore, ve lo chiediamo, basta. Io penso che veramente non ci sia più niente da fare, è da dire. Ma cacciate e basta. Cosa deve fare più questa? Non può fare più niente di peggio, basta. No, un'altra sosta. Perfetto, grazie. Un'altra sosta intossicata. Grazie, grazie. Grazie, Rudy. Grazie. 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 Grazie.